we bella a tutti ragazzi e benvenuti ad un mio nuovo video io sono xyuder e ragazzi anche oggi tantissime novità per quello che riguarda il futuro di fortnite e le ultime 24 ore per news leaks e curiosità parleremo proprio ragazzi di un annuncio che ha fatto ninja davvero molto interessante e che potrebbe risolvere un bel po di problemi ninja ogni tanto ci tira fuori delle idee sensazionali ma ragazzi è stato scoperto qualcosa di incredibile anche per quanto riguarda la season 3 di questo capitolo 2 di fortnite prima volevo però ringraziare tutti i ragazzi che ogni giorno mi supportano nello shop con il mio codice creator xyuderone grazie mille ragazzi per il vostro sostegno mi raccomando non dimenticatevi di iscrivervi ai miei canali e soprattutto di attivare la campanella per non perdere nessuna notifica sui miei video news e allora ragazzi andiamo dentro direttamente nel primo topic di oggi forse non lo sapete ma ieri è stato pubblicato un tweet ufficiale da parte di fortnite che ricorda che sono passati due anni dall'arrivo della season 4 mamma mia quanti ricordi io ricordo benissimo quel trailer non riuscivamo a capire che cosa era l'astronave gli alieni poi si capì in realtà che fu tutto montato su un set cinematografico quindi un piccolo ricordo un omaggio una delle season più belle sicuramente di fortnite ne approfitto per chiederti ma il tuo ricordo più bello della season 4 se l'hai giocata qual è lasciamelo scritto qua sotto nei commenti perché ci tengo tanto a leggere anche i vostri commenti e andiamo avanti con il prossimo argomento di oggi ragazzi si parla di teaser come vi avevo anticipato e come sapete tutti con l'arrivo della patch 12.50 sono stati trovati i tre teaser della season 3 di questo capitolo 2 il miascolo in bermuda con l'acqua che gli arriva fino alla vita una casa galleggiante e una banana che nuota con sotto uno squalo gigante ci soffermiamo come state vedendo in questo momento sulla casa galleggiante perché qualcuno in game è riuscito più o meno a capire di quale casa si tratti e si tratta proprio dell'edificio rosso a parco pacifico il che ragazzi lascia aperte un miliardo di ipotesi su quello che potrebbe succedere per caso sarà proprio parco pacifico a lasciarci e ad essere sommerso non lo sappiamo ma soprattutto sarà tutta la mappa sommersa o solamente una parte allora se volete la mia personale opinione è assolutamente ridicolo pensare che tutta la mappa e tutta una season potesse potrebbe essere giocata in acqua no nel senso non stiamo mica giocando alle gare di nuoto delle olimpiadi io credo che può invece essere molto probabile che una parte di mappa venga sommersa e che quindi è come succede per la per come successo per la sì per il capitolo 1 parti della mappa verranno differenziate mi spiego meglio avevamo il deserto avevamo il ghiaccio avevamo il vulcano con la lava ma non avevamo una parte sommersa cosa che potrebbe arrivare ci sono ovviamente delle cause che potrebbero appunto portare all'inondazione di alcune parti della mappa e potrebbe essere ad esempio la diga che cede perché no ragazzi sappiamo che c'è questa gigante tripla diga che tiene il mega lago e che poi porta a idro 16 e a pantano palpitante che potrebbe appunto cedere e nella prossima season alzare il livello dell'acqua ma un'altra ipotesi ovviamente è quella dei cinque oggetti misteriosi intorno all'agenzia sappiamo che fanno parte del doomsday e quindi del giorno del giudizio il nome dell'evento che chiuderà questa season 2 potrebbe essere assolutamente plausibile pensare che qualche malfunzionamento magari nell'evento stesso causerà un innalzamento delle acque quelle centrali e che porterà anche all'inondazione di parco pacifico che non è proprio vicinissimo all'agenzia ma comunque come tutte le siti è collegato con i corsi d'acqua insomma ragazzi tanta roba per questi teaser potremmo saperne secondo me di più nella patch 12.51 o nell'ultima patch la 12.60 e scopriremo ovviamente se ci saranno delle novità e che cosa succederà ma andiamo avanti a parlare di un prossimo argomento di oggi si parla nuovamente della ricompensa me lo state chiedendo in tantissimi e io stesso vorrei ben capire quando otterremo il backpack gratuito ne abbiamo parlato anche un paio di giorni fa nel video le neon wings sono praticamente è un backpack formato da ali colorate con i neon che sono reattive alla musica sappiamo che questo backpack ci verrà regalato per festeggiare la nuova ltm la cosa che non abbiamo ben capito è innanzitutto non è ancora disponibile per nessuno ci sono due varianti che stanno uscendo in questo in questi giorni la prima è quella che vi sto facendo vedere in questo momento come vedete dovrebbe essere nella giornata di oggi alle 9 pm eastern time ora dovete solamente controllare non ricordo bene l'orario esatto per l'eastern time dovrebbe essere il nostro se non ricordo male il nostro GMT non me lo ricordo ma non abbiamo ancora capito se saranno disponibili subito in game e quindi qualcuno diceva saranno disponibili nello shop ma a costo zero e non potrete comprarle ma potrete solo regalarle altri dicono invece che potrebbero essere messe sotto forma di drop ad alcuni streamer no io me la sento di escludere abbastanza questa cosa e tra l'altro sappiamo appunto che alcuni test sono già iniziati per qualcosa dedicato alla nuova ltm quindi non abbiate paura ragazzi nessuno ha ancora le ali quindi non vi preoccupate le otterremo e appena ci sarà il modo per ottenerle ve lo dirò immediatamente seguite anche ovviamente la pagina instagram perché pubblicherò lì sicuramente qualcosa per chi magari non ha avuto modo di vedere i video e andiamo avanti ragazzi parlando ancora qua stiamo vedendo dei delle risposte sui forum dedicati alla premiera appunto del nuovo party royal ma il prossimo argomento di cui volevo parlarvi oggi era una cosa dedicata a delle sfide segrete come sapete ci sono state anche nella patch 12.50 c'è stata la sfida segreta degli ignomi e degli orsi dove dovevamo disarmare appunto entrambe le fazioni mentre sappiamo per certo che con l'arrivo della prossima patch arriverà una nuova sfida che si chiamerà storm the agency ora non sappiamo assolutamente in cosa consisterà ma sappiamo che la descrizione dice qui c'è il premio per aver completato le challenge della storm the agency quindi sarà più di uno ovviamente staremo a vedere che cosa ci regaleranno probabilmente punti esperienza ma magari qualcosa in più non sarebbe male e prima di salutarvi volevo appunto parlarvi di quello che ha detto ninja che dice una cosa veramente molto intelligente lascio direttamente la parola a lui che vi spiega tutto quello che c'è da sapere so i just thought of a really cool idea that i think would benefit a lot of people pretty much every single gamer out there uh but definitely content creators youtubers streamers etc uh playing valorant a lot it's definitely been hitting me and also doing squad fills and things like that and uh fortnite and warzone you you meet a lot of interesting and amazing and cool people and fans you know who obviously you're not gonna play with them and you know you don't know them in real life things like that so you don't obviously want to add them on your main friends list and this you know applies to anyone right um so you can add them as like a secondary list so like a secondary friends list the b list whatever you want to call it but it could be a list where you can obviously toggle it on and off you want you wouldn't receive you know spam messages or invites from them but you could obviously turn those on if you wanted you can switch over to that friends list and maybe even secretly invite some of them every once in a while for some games and things like that but um you know i mean i need a lot of really cool people that i would love to you know not necessarily add my main list and have them invite me every single day and play with them but also like hey man you were super cool in our games thank you for supporting me uh you know i'll add you to my list in my second list and you know just you could show off their friends things like that i don't know you know i think it's pretty cool insomma ragazzi che cosa dice ninja in soldoni dice che è una cosa intelligentissima per poter migliorare le l'esperienza di gioco di fortnite è quella di creare nel proprio profilo nel l'avere due liste di amici il che servirebbe tantissimo come dice lui per gli streamer per content creator per avere una lista principale dedicata appunto magari a un numero chiuso di utenze gli amici altri content creator ed evitare il numero eccessivo di spam di messaggi di richieste di inviti che potrebbero essere invece messi su una seconda lista quindi un messaggio che ha scaturito un sacco di interesse da parte della community ci auguriamo che ninja possa arrivare fino allo staff e che per caso facessero una roba del genere insomma ragazzi io vi ringrazio tantissimo anche per aver guardato il video news di oggi mi raccomando non dimenticate di lasciare un bel like iscrivetevi ai miei canali e a me mi trovate proprio adesso in live su twitch ciao